Ma a te sembra? Sono abbronzato. Sì? Ma tu vai in palestra. Ma cosa fai tutto il giorno? Facciamo alle tre. Ma alleno mattina e pomeriggio. Ma davvero? Giuro. Ma perché non sai cosa fare? No, per passare pure un po' di tempo. Ma che fai? Corri no. Cosa fai? Pensa, ieri ho fatto i gradoni. Come Zemma? Ne giuro. Ho fatto i gradoni bassi, alti. Ho fatto tre giri dei gradoni bassi. Tre giri, quelli alti. E poi ho fatto cinque giri di casa. Allora, cinque giri di casa, cosa sono? Trenta chilometri? No, no, no. Sono ottocento metri a giro. Ma andavi veloce, no? Veloce. No, facevo 1,30 a giro quasi. 1,40. Madonna, vai, oh. No, no, normale. Una corsa normale. Eh, io non lo so. Io correre, non sai. Corro un po', io vado più piano. Cioè, io faccio un po' di tapirulanti. Vai in discesa? Vai in discesa. C'è Cristian che mi dice, io non ce la faccio più. Mi rifanno male tutte le gambe la mattina. Ci ha all'altro i lati fino alla capoccia. Ah, sì? Eh, sì, perché mi sta a dire non ce la fa le nasse così forti. Eh, vabbè, scusa. Vabbè, ho capito. Ma non è che è in passo normale. La corsa è in passo normale. Scusa, ma allora lui cosa gioca? Lì con te. Anche i ragazzi non si muovono più niente. No, no. Non è che hai utilizzato una partita di calcetto con gli amici di tuo figlio a casa. Nel campetto. Ma che sei fatto? Ma qui non entra nessuno. Anche perché c'ho elicotteri sopra che girano, eh. C'hai il drone. Ti giuro. No, no, elicotteri proprio. Ti giuro. Si fermano qua sopra e guardano. Ma scusa, sarà Zem che controlla come fai i gradoni. Zem ha gioco dentro il pozzo. Appena di verso. Alza la destra e seguo. Che fumo le sigarette, oh. Vedi il fumo, da? No, no, ragazzi.